E diamo senza altro la parola al dottor Mauro Criscuolo, giudice nel Tribunale di Napoli, che ci parlerà appunto del giudizio di divisione. Allora, funziona? Sì. Allora, buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare gli organizzatori del convegno per questa opportunità di affrontare un tema del quale mi sono occupato in varie occasioni, soprattutto nella veste di giudice delle divisioni puro. Inizialmente, fino alla riforma, mi capitavano anche divisioni scaturite da procedure esecutive, ma questo approccio, tra virgolette, da purista delle divisioni, mette in evidenza come l'aver trasferito i giudizi di scioglimento delle comunioni al giudice dell'esecuzione ha portato talvolta delle soluzioni che forzano un pochino quello che è il dato letterale. Si è dimenticato, infatti, che il giudizio di scioglimento delle comunioni, ancorché scaturente da una divisione, è un incidente di cognizione che rimane sostanzialmente autonomo rispetto al giudizio di esecuzione. Tanto da imporre in determinati casi una deroga rispetto a quella tendenziale identità che ci dovrebbe essere tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione secondo quella che è stata la scelta del legislatore con la riforma del processo esecutivo. segnalava poco prima Alberto l'ipotesi in cui il giudice delegato non possa, per una ragione di incompatibilità, svolgere anche la funzione di giudice dell'esecuzione. Accanto a questa, per esempio, vi possono essere altre ipotesi in cui diventa difficile rendere compatibile quest'identità. Soprattutto in considerazione del fatto che, per il giudizio di scioglimento delle comunioni, abbiamo vissuto un succedersi di norme nel tempo che hanno di volta in volta riscritto le regole di composizione dell'organo abilitato a decidere sulle cause di scioglimento della comunione. Faccio qui un breve passaggio delle varie norme succedute nel tempo perché mi sembra significativo che anche la Corte di Cassazione che si è occupata della questione con la sentenza 19.876 del 2009 a mio modo di vedere non ha colto appieno quelli che erano i vari passaggi normativi. Perché? Dobbiamo fare i conti che fino alla riforma del 1995, sulla riforma del processo civile, tutti i giudizi di competenza del Tribunale erano di competenza collegiale. Con la riforma della 353 del 1990 interviene l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario che lascia i giudizi di scioglimento delle comunioni riservate alla competenza del collegio. E quindi continuano ad essere collegiali tutte le divisioni introdotte sia prima che dopo la riforma del processo civile. Con la riforma del giudice unico, la 51 del 1998, entrata in vigore il 2 giugno del 1999, invece si riscrivono le regole di individuazione dell'organo competente a decidere le cause in materia di scioglimento delle comunioni e non c'è più riferimento per la riserva di collegialità alle cause ex articolo 784 e seguenti CPC, ma si fa riferimento alle cause nelle quali c'è l'esercizio dell'azione di riduzione o l'impugnativa di testamento. Quindi non tutte le divisioni rimangono collegiali, ma solamente quelle nelle quali viene in discussione uno di questi due profili. E non è un caso che dopo il 2 giugno 1999 abbiamo avuto cause di scioglimento delle comunioni trattate in distaccata, cosa che in passato non poteva avvenire perché essendo prima di competenza del collegio dovevano essere concentrate presso la sede centrale. In realtà col giudice unico nasce questa differenza e quindi in quel momento le cause di scioglimento della comunione vengono trattate dal giudice monocratico in distaccata. Qual era la fattispecie che si era presentata all'esame della Corte di Cassazione? Era una sentenza in cui la causa era stata decisa, ancorché introdotta prima del 2 giugno 1999, era stata decisa dal giudice monocratico e la Corte di Cassazione investita della questione relativa alla correttezza o meno di questa decisione osserva che poiché l'udienza di precisazione delle conclusioni si era svolta dopo il 2 giugno 1999 era entrata in vigore la riforma del giudice unico e quindi quella causa poteva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Dimenticando però che esisteva una norma di diritto transitorio contenuta nel decreto legislativo 51 del 98 che prevedeva che le cause già pendenti davanti al Tribunale a quella data continuavano ad essere decise sì dal Tribunale, oramai giudice unico, ma secondo le regole di composizione previgenti. Con la conseguenza che poiché era una causa già pendente al 2 giugno 1999 doveva essere decisa dal collegio. Segnalo questo per evidenziare come vi sia effettivamente un accavallarsi di norme che rende difficile, sperando che non ci siano più cause prima del 99, ma ne dubito, tenuto conto appunto della complessità di questi giudizi, rende difficile stabilire anche chi debba decidere. Ebbene, nulla impedisce che anche nell'ambito di una espropriazione di beni indivisi possa nascere una questione che determina la competenza collegiale. Immaginiamo un'ipotesi in cui si assuma che sulla base di una successione legittima quel bene sia caduto in successione in quote uguali tra i due fratelli e uno dei fratelli o uno dei cognati, cioè un altro parente, assuma che invece vi è un testamento che determina la distribuzione del bene secondo quote diverse. C'è un'impugnativa di testamento e a questo punto la causa deve essere decisa collegialmente. E quelle soluzioni possono essere varie. O si ritiene che il giudice dell'esecuzione vada ad integrare il collegio, oppure si deve ritenere che a questo punto non sia più possibile mantenere quell'identità soggettiva tra il giudice dell'esecuzione e il giudice della cognizione e quindi la causa debba essere decisa dalla sezione tabellarmente competente in materia di cause successorie. Questo appunto per evidenziarvi come questa regola tendenziale introdotta dal legislatore può trovare delle deroghe in ragione delle peculiarità della disciplina stessa del giudizio di scioglimento delle comunioni. Giudizio di scioglimento delle comunioni che ha questa peculiarità. È un giudizio assolutamente sui generis. Non è un caso che il legislatore ultimamente ci abbia propinato un nuovo tentativo di risolvere queste cause col 791 bis. Una norma che a mio modo deve vedere è più che altro una norma propaganda perché è destinata a non trovare una concreta attuazione. Presuppone infatti che le parti concordemente vadano davanti al tribunale e chiedano al tribunale di disegnare un professionista che sciolga la comunione. Ma se le parti sono d'accordo se lo scelgono stesso loro, il professionista davanti al quale sciogliere la comunione. Quindi obiettivamente è una norma che da quello che mi è stato detto serviva anche per legittimare ulteriormente la permanenza perché inizialmente la previsione normativa era riservata solamente ai notari per legittimare all'esterno anche in ambito comunitario la permanenza, secondo alcuni, del rilievo pubblicistico della categoria notaria. Questa è almeno una voce che mi è giunta, ma probabilmente era più che altro che voleva offrire una soluzione alternativa e soprattutto non teneva conto del fatto che già il Codice Civile al suo interno, nell'ambito delle norme in tema di divisione ereditaria, prevede la possibilità che venga delegata ad un notario, in questo caso il Codice parla espressamente di notario, la divisione dei beni ereditari. La peculiarità, come vi ho detto, è che è un giudizio che tendenzialmente può definirsi in maniera non contenziosa mediante l'adozione di un provvedimento avente la forma di ordinanza, ma che laddove insorgano contestazioni tra le parti necessita di una cognizione piena e di una definizione con un provvedimento avente contenuto di sentenza. Altro problema che poi pone il giudizio di scioglimento delle comunioni è quello relativo alla natura dichiarativa, ovvero costitutiva, dello stesso. Tenuto conto soprattutto del fatto che con la sentenza di divisione è possibile addivenire ad una serie di pronunce che appaiono tutte coessenziali al risultato finale dell'apporzionamento dei beni tra i condividenti, che sono anche in alcuni casi contenuto di condanna. Immaginiamo per esempio l'ipotesi in cui il bene non comodamente divisibile venga attribuito ad uno dei condividenti, in questo caso è prevista la condanna a carico del condividente attributario del bene del pagamento del conguaglio in favore, viene definita ecotecnicamente eccedenza, in favore del condividente che invece non risulta essere attributario del bene. E proprio in ragione di questo contenuto estremamente eterogeneo si pone appunto la necessità di stabilire se la sentenza di divisione e in genere gli effetti della divisione siano meramente dichiarativi, ovvero costitutivi. Il codice e in particolare la norma in materia di divisione sembrerebbe far propendere per la natura meramente dichiarativa della sentenza di divisione. Tuttavia la giurisprudenza inizialmente maturata in ambito tributario e successivamente radicatasi anche nell'ambito della giurisprudenza civile ha evidenziato come in realtà la sentenza di scioglimento della comunione possa accomunare accanto chiaramente a un contenuto dichiarativo che però, badate bene, è comunque una fictio iuris, non elimina la circostanza che in medio tempore i beni siano rimasti in comune tra i condividenti. La deroga più evidente alla natura meramente dichiarativa della divisione noi la troviamo per quanto riguarda la disciplina dei frutti dei beni comuni perché, ancorché venga attribuito solamente ad uno dei condividenti l'unico bene fruttifero magari in comunione, ciò malgrado lo stesso è tenuto comunque a rendere il conto della gestione dei beni intervenuta a medio tempo. E laddove invece una natura dichiarativa pura avrebbe portato alla diversa conclusione secondo cui non dovevano essere reso il conto dei frutti maturati in manente comunione. E vi dicevo, quindi, si accompagna anche un effetto costitutivo soprattutto in considerazione delle ipotesi in cui il concreto apporzionamento delle quote porti alle assegnazioni di beni in misura non perfettamente corrispondente a quella che è l'entità delle quote astratte. Si è ritenuto infatti che la sentenza di divisione abbia un contenuto anche costitutivo se per esempio a fronte di due quote uguali del 50% uno dei condividenti riceve un bene del valore del 60% l'altro del 40% da compensare questa differenza con un conguaglio. Per quella parte la sentenza di divisione ha contenuto costitutivo. Questa problematica l'ho vista ultimamente in grado di appello sotto un profilo particolare che è quello della possibilità di ottenere da parte del giudice d'appello la sospensione degli effetti della sentenza di divisione perché è frequente che pronunziata la sentenza di divisione magari disposta alla vendita del bene lo vedremo, c'è una delle ipotesi che si possono verificare disposta alla vendita del bene si vada davanti al giudice d'appello e si chiede al giudice sospenda l'efficacia esecutiva della sentenza impedisca la vendita del bene oppure sospenda il pagamento del conguaglio perché ritengo che il valore del bene sia diverso da quello stabilito in sentenza la misura del conguaglio eccessiva rispetto a un bene che ha perso di valore soprattutto in questi ultimi periodi ebbene sul punto abbiamo ritenuto alla luce anche di alcuni recenti interventi della Corte di Cassazione che tutte le pronunce di condanna come ad esempio la condanna al pagamento del conguaglio dell'eccedenza si ponga in un rapporto veramente sinallagmatico con il contenuto della restante sentenza di divisione e poiché gli effetti della divisione si producono attesa alla natura dichiarativa costitutiva solamente al passaggio ingiudicato della sentenza stessa trattasi di capi di condanna che in realtà non possono essere nemmeno sospesi da parte del giudice d'appello perché la loro efficacia esecutiva è subordinata come la parte dichiarativa costitutiva della sentenza al passaggio ingiudicato della sentenza medesima rimarrebbe sicuramente sono esclusi da questo discorso i capi relativi al rendiconto perché per il rendiconto la giurisprudenza della Cassazione afferma che si tratta di una domanda autonoma che può occasionalmente essere accumulata con la domanda di scioglimento della comunione ma che proprio perché il diritto al rendiconto può nascere indipendentemente dalla proposizione di una domanda di divisione laddove venga pronunciata anche condanna al rendiconto quella sentenza fruisce della provvisoria esecutorità che oramai caratterizza tutte le sentenze di primo grado il profilo più problematico è quello degli cosiddetti atti conseguenziali finalizzati cioè ad attuare in maniera definitiva gli effetti della divisione uno trova uno degli attività conseguenziali che attiene esattamente al comodo dividendum sit perché avevo dimenticato di dirvi che normalmente si ritiene che nell'ambito della divisione di beni vi sia una prima fase relativa all'an dividendum sit cioè a stabilire se si possa o meno dividere quel bene per esempio la questione sulla pignorabilità della quota e se il bene in comunione legale possa essere diviso o meno quella è una questione chiaramente che attiene all'an dividendum sit una volta superata questa fase con il provvedimento di quell'articolo 785 si passa alla seconda fase che è finalizzata alla concreta assificazione dei beni e qui gli esiti tendenzialmente sono due abbiamo o la possibilità di attribuire il bene al bene non divisibile bene non comodamente divisibile ci sono due possibilità la prima è che uno dei condividenti faccia richiesta di attribuzione la seconda è che sempre in presenza di un bene non comodamente divisibile nessuno si faccia avanti per ottenere l'attribuzione del bene in questo caso si pone la necessità di vendita del bene stesso e ho volutamente omesso di dire vendita all'incanto perché dobbiamo fare i conti anche qui con la modifica intervenuta sul testo della norma terza ipotesi è quella in cui i beni invece siano divisibili quindi sia possibile pervenire alla formazione di un comodo progetto di divisione in natura e qui abbiamo in realtà un appiglio normativo perché abbiamo l'ultimo comma dell'articolo 791 del codice di procedura civile nel quale espressamente subordina la possibilità di estrarre assorte i lotti perché l'operazione che deve essere compiuta è quella dell'estrazione assorte anche se apro una parentesi la norma di quell'articolo 729 del codice civile che individua come criterio preferenziale quello dell'estrazione assorte viene di recente letta dalla giurisprudenza in maniera più elastica ritenendo che possa essere delogata in presenza di una valutazione discrezionale da parte del giudice facendo prevalere anche esigenze tra virgolette egoistiche di alcuni dei condividenti per esempio la circostanza che in uno dei beni comuni da dividere abbia abitato uno dei due condividenti in questo caso il giudice potrebbe derogare al criterio del sorteggio dando preferenza a quella che è già la spartizione di fatto avvenuta dei beni fra gli stessi ebbene per il sorteggio l'articolo 791 ultimo comma del codice di procedura civile prevede che intanto è possibile procedere all'estrazione assorte dei beni in quanto vi sia un'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 789 quindi in assenza di contestazione delle parti ovvero vi sia una sentenza passata in cosa giudicata è pur vero che l'articolo 791 è una norma dettata in materia di delega al notaio perché non dimentichiamo che il giudizio e scioglimento delle divisioni delle comunioni è stato un po' un antesignano delle scelte fatte dal legislatore con la riforma dell'esecuzione perché è il primo procedimento nel quale viene prevista in senso ampio la possibilità di delega in quel caso al notaio e non al professionista in generale però nonostante la norma sia inserita specificamente in una previsione dettata per la delega al notaio tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha pacificamente ritenuto che quel limite rappresentato dal passaggio ingiudicato operi anche per la divisione che venga integralmente gestita da parte del giudice per cui per l'estrazione assorte dobbiamo sicuramente attendere il passaggio ingiudicato resta il problema della vendita della vendita oggi non più all'incanto perché dopo le modifiche intervenute sull'articolo 788 si prevede c'è un rinvio a tutte le norme in materia di esecuzione e poiché con la riforma del 2005-2006 la regola generale è diventata quella della vendita senza incanto anche per la vendita disposta in sede di divisione deve ritenersi che debba privesperirsi la vendita senza incanto e poi quella con incanto solamente laddove la prima non abbia dato i risultati auspicati e qui ci si chiede è possibile per il giudice d'appello sospendere l'efficacia di questa vendita delegata? Personalmente abbiamo ritenuto, cioè come corte d'appello abbiamo ritenuto di no abbiamo ritenuto di no in ragione del fatto che non si tratta in questo caso di un capo in senso stretto condannatorio perché il giudice d'appello può sospendere almeno secondo quella che è l'interpretazione offerta dalle sezioni unite solamente i capi di condanna in senso stretto. Si tratta in realtà di un atto conseguenziale alle statuizioni contenute nella sentenza necessario al fine di far proseguire il processo di divisione e in questa prospettiva l'unica norma che al nostro modo di vedere consentirebbe di poter intervenire sull'efficacia di questa vendita è l'articolo 279 del codice di procedura civile la quale in relazione alla pronuncia di sentenze non definitive consente di poter sospendere gli atti conseguenziali alla sentenza non definitiva solo su accordo delle parti e laddove però il giudice di primo grado ritenga di poter intervenire e sospendere. Quindi al di fuori di questa ipotesi specifica riteniamo che la vendita eventualmente disposta con la sentenza non definitiva che abbia ritenuto i beni non comodamente divisibili non sia suscettibile di sospensiva. Questa conclusione però pone dei problemi di carattere pratico notevoli che ci riportano poi alle problematiche del processo esecutivo. Il problema qual è? Poniamo il caso che venga fatto appello contro la sentenza non definitiva che ha disposto alla vendita il giudice d'appello non sospende non perché non vuole sospendere ma perché non può sospendere addirittura in casi del genere si potrebbe profilare proprio l'inammissibilità della richiesta di inibitoria e noi per evitare di andare incontro a far andare incontro le parti anche al pericolo della sanzione pecuniaria che oggi è prevista per le inibitorie inammissibili o manifestamente infondate abbiamo ritenuto di esplicitare con una sorta di editto pretorio qual era il nostro orientamento sulla questione. va avanti il giudizio di appello nel frattempo il bene magari è stato anche venduto da parte del giudice di primo grado poiché non c'è stata questa richiesta concorde il giudice d'appello la pensa diversamente rispetto a quanto affermato dal tribunale quindi opta per la natura divisibile del bene. Qui diuris in questo caso che cosa succede della vendita nel frattempo disposta? La soluzione dovrebbe essere quella di fare applicazione dell'effetto espansivo esterno cioè ritenere che una volta riformata la sentenza in appello la riforma della stessa produca gli effetti anche su tutti gli atti che sono stati conseguenza della sentenza riformata e quindi la vendita dovrebbe essere caducata. Il punto però pone in evidenza la necessità di conciliare questa soluzione dogmatica con l'esigenza di tutela della giudicataria perché nel frattempo potremmo trovarci di fronte a un soggetto che legittimamente ha partecipato alla procedura di vendita e si è resa giudicatario del bene il quale per una vicenda che è tutto sommata la quale è totalmente estraneo correrebbe il rischio di vedersi sottratta la titolarità del bene. Tempo addietro quando mi occupai di questo argomento anche alla luce delle discussioni avute in Camera di Consiglio proponiamo la soluzione di far leva sull'articolo 2929, norma che prevede che i vizi del procedimento esecutivo non possono essere opposti rispetto all'aggiudicatario. La questione si è presentata fondamentalmente in termini analoghi anche in materia di processo esecutivo. Oggi vi è stato detto come l'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha stabilito, lo diceva il collega Stuni, come la caducazione successiva del titolo esecutivo non pregiudichi il diritto acquistato da parte dell'aggiudicatario. E quindi la Corte di Cassazione, la seconda sezione, o la terza, la seconda era la seconda, rimise la questione alle sezioni unite affinché le sezioni unite si pronunziassero anche su questa specifica questione, cioè sulla prevalenza da assegnare all'aggiudicatario, ovvero al condividente che aveva proposto appello, circa la sorte del bene. Le sezioni unite sono intervenute, tuttavia non hanno avuto modo di occuparsi specificamente della questione, perché il tema che era stato sottoposto all'attenzione delle sezioni unite era duplice, investiva un'altra problematica di notevole applicazione, che era quella dei rimedi da attuare nei confronti dei provvedimenti dati da parte del giudice dello scioglimento delle comunioni in caso di vendita del bene. Si trattava in questo caso appunto di un'ipotesi in cui, la vicenda la conosco perché è una vicenda della quale ci continuava ad occupare in Corte d'Appello a Napoli, in cui era intervenuta una sentenza che aveva dichiarato il bene non comodamente divisibile. Successivamente a questa sentenza, uno dei condividenti aveva fatto richiesta di attribuzione. Si poneva il problema di stabilire se questa richiesta di attribuzione dovesse o meno portare alla sospensione della vendita. Il giudice aveva ritenuto di no ed era andato avanti e la parte quindi aveva impugnato quel provvedimento con il quale il giudice aveva disposto per la prosecuzione della vendita. La Corte di Cassazione ritiene che in questo caso occorreva interrogarsi sui rimedi nei confronti di questo provvedimento. E fa una sorta di axio finum regundorum, evidenziando come in realtà i provvedimenti che dà il giudice della cognizione in materia di vendita delegata possono avere a seconda dei casi una duplice natura. Laddove tendono a risolvere difficoltà concrete e insorte nell'ambito del procedimento di vendita, sono dei provvedimenti in tutto assimilabili a quelli del giudice dell'esecuzione. E quindi nei confronti degli stessi il rimedio impugnatorio è quello dell'opposizione agli atti esecutivi. Laddove invece venga a risolvere degli incidenti più propriamente di cognizione e in questo caso si riteneva che stabilire la prevalenza o meno dell'istanza di attribuzione presentata successivamente alla sentenza che aveva dichiarato il bene non comodamente divisibile era un profilo strettamente inerente alla vicenda cognitoria del giudizio di scioglimento della comunione. In questo caso nei confronti questo provvedimento non c'era la possibilità di far immediatamente opposizione ai sensi dell'articolo 617 ma occorreva risolverlo nell'ambito del processo di cognizione con la conseguenza che poiché si trattava di ricorso in cassazione proposto ai sensi dell'articolo 617 ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non si trattava di un provvedimento suscettibile di immediata impugnazione. Però e quindi non è scesa nel merito della possibilità o meno di dare prevalenza alle esigenze dell'aggiudicatario ovvero del condividente. Tuttavia credo che proprio il precedente di pochi mesi appunto anteriore costituito dalla caducazione del titolo esecutivo nell'ambito della procedura esecutiva possa valere anche in questo caso e quindi si possa ritenere che debbano tendenzialmente prevalere le esigenze di tutela dell'aggiudicatario. Fatta salva naturalmente come appunto dispone l'articolo 2929 un'azione di responsabilità nei confronti del creditore, in questo caso sarebbe l'altro condividente, laddove in mala fede. Volevo esaminare ancora qualche altro aspetto che spesso può sfuggire nell'ambito delle procedure esecutive, delle divisioni scaturanti da procedure esecutive. Un primo profilo è per esempio quello sempre legato alla origine della comunione, il problema della pluralità delle masse, perché potrebbe per esempio addivenirsi ad un pignoramento di più quote con la necessità di procedere allo scioglimento di più comunioni. Talvolta sfugge, ed è una regola molto importante, che laddove si tratti non di comunione ereditaria, per la quale vale il principio tendenziale della unitarietà della massa ereditaria, ma di beni acquistati dagli stessi soggetti, ma con distinti titoli di provenienza, che qui in realtà abbiamo una pluralità di masse e che la possibilità di pervenire alla formazione di un unico progetto di divisione è data solamente in presenza di un consenso espresso da parte dei condividenti, consenso che deve essere espresso peraltro in forma scritta. A questo fine non è sufficiente la mera adesione prestata da uno dei difensori. E questo risulta poi estremamente difficile in materia di divisione scaturente da esecuzione, tenuto conto che il debitore nella maggior parte dei casi rema contro una soluzione di questo genere. E, badate bene, l'importanza di procedere a tanti progetti di divisione per quanto sono le masse è fondamentale perché l'eventuale provvedimento emesso in violazione di questa regola è un provvedimento che fino a qualche tempo fa era ritenuto abnorme e come tale legittimava la possibilità di un ricorso immediato in Cassazione. Questo riferimento all'abnormità del provvedimento mi porta poi ad affrontare un altro profilo particolarmente interessante, che anche questo è stato di recente oggetto di un intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, circa i rimedi dati alle parti nei confronti degli eventuali errori commessi dal giudice nella scelta del provvedimento adottato nell'ambito del procedimento di scioglimento della comunione. Vi ho detto in premessa che la peculiarità del giudizio di scioglimento è che può avere tanto un esito, tra virgolette, bonario, mediante l'adozione di un provvedimento con forma di ordinanza, quanto un esito contenzioso con la necessità di adottare una sentenza. Il problema nasce soprattutto in tema di approvazione del progetto di divisione ex articolo 789, laddove il provvedimento venga adottato erroneamente con la forma di ordinanza anziché con quello della sentenza. Può avvenire per una serie di ipotesi molto varie. Una di queste che abbiamo visto potrebbe esserci un errore nello stabilire la presenza di uno o più masse. Potrebbe esserci l'errore rappresentato dal fatto che il progetto di divisione non sia stato comunicato al contumace. Sul punto, infatti, sebbene l'articolo 789 taccia sul punto, l'interpretazione che dello stesso è stato offerto con una sentenza interpretativa di rigetto da parte della Corte Costituzionale del 2010, è stato nel senso di ritenere che qui l'articolo 789, laddove dice che una volta presentato il progetto di divisione fatto proprio dal giudice deve essere comunicato ai condividenti, quella nozione di condividenti ricomprende al suo interno anche i contumaci. Ritenendosi che in questa parte dell'articolo 789 vada ad arricchire il catalogo degli atti da notificare al contumace ai sensi del 292. Questa è almeno l'interpretazione che è stata offerta. Con la conseguenza che se io sottopongo all'approvazione delle parti un progetto di divisione, ma non lo comunico l'udienza nella quale è fissata la discussione del progetto ai convenuti contumaci, non posso approvare quel progetto con ordinanza, ma lo devo fare necessariamente con sentenze. Laddove lo faccia con ordinanza, quel provvedimento era, secondo la vecchia giurisprudenza, suscettibile di ricorso in Cassazione. Altro profilo problematico è appunto quello in cui il giudice, a equivochi sul tenore delle affermazioni delle parti, ritenga che non ci sia contestazione, ma in realtà una contestazione ci sia. E ciò malgrado quindi, anziché adottare la forma della sentenza come prescritto per legge, adotti la forma dell'ordinanza. Tutte queste ipotesi, in passato vi accennavo, erano considerate ipotesi di provvedimento abnorme, come tali suscettibili di ricorso immediato in Cassazione ai sensi dell'articolo 111. In questo senso una spinta notevole a un cambiamento è stata proprio la riforma del giudice unico e la trasformazione della regola da collegiale a monocratica per la decisione delle cause in materia di scioglimento delle comunioni. Perché si è detto, come avviene per esempio in materia di convalida di sfratto, laddove si è detto, se il giudice erroneamente ritiene che a fronte dell'intimazione di sfratto non ci sia contestazione dell'amorosità, mentre invece il convenuto, l'intimato, contesta l'amorosità, quel provvedimento, sebbene messo con la forma dell'ordinanza, abbia il contenuto di sentenza e sia appellabile. Abbiamo infatti l'unica ipotesi in cui l'ordinanza di convalida può essere oggetto di appello, che normalmente è un provvedimento che dovrebbe essere non impugnabile. Allora si è detto anche qui, tenuto conto dell'identità della persona che è incaricata della decisione, poiché anche la sentenza di divisione oggi dovrebbe essere emessa dal giudice monocratico, per quale motivo? Prevedere che il provvedimento adottato con la forma dell'ordinanza, anziché con quella prevista della sentenza, debba essere ritenuta ricorribile in cassazione, invece facciamo prevalere la sostanza sulla forma, qualifichiamo quella che ha l'apparenza di un'ordinanza come sentenza, perché comunque ha risolto, sebbene in maniera erronea, delle contestazioni e prevediamone quindi l'appellabilità e non più la ricorribilità in cassazione. Questo percorso interpretativo che è partito da parte dei giudici di merito e poi è arrivato fino alla Corte di Cassazione, la quale con un intervento delle sezioni unite di due anni fa, del 2012, ha ritenuto appunto di avallare questo mutamento interpretativo, addirittura andando anche oltre quelli che erano gli auspici ed affermando che in realtà questa soluzione doveva valere anche per il passato, cioè ancora prima della riforma del giudice unico, tuttavia con un temperamento, il temperamento rappresentato dal cosiddetto overruling, cioè ha tenuto conto del fatto che si trattava obiettivamente di una sentenza innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza con la conseguenza che nella fattispecie in concreto ha ritenuto comunque di poter delibare nel merito il ricorso in Cassazione proposto, perché la parte aveva proposto ricorso in Cassazione facendo affidamento su quella che era la giurisprudenza del passato, dando però un monito per il futuro e dicendo guardate d'ora in poi sappiate che in caso tra virgolette di errore del giudice nella scelta della forma del provvedimento avete spazio per l'appello e non venite più direttamente in Cassazione. Chiudo con un ultimo accenno. Il problema delle spese del giudizio di scioglimento delle comunioni è occasionato da esecuzione. Questo perché in realtà, almeno per quanto mi costa, esiste solo un remoto precedente della Corte di Cassazione risalente peraltro al 1957, in cui la Corte di Cassazione ebbe ad affermare che laddove il creditore aveva esperito il giudizio di scioglimento delle comunioni per l'espropriazione di beni indivisi, le spese andavano poste a carico di tutti gli altri condividenti in base al principio della soccombenza. Sappiamo bene che normalmente la regola in materia di scioglimento delle comunioni è quello che invece non vede l'applicazione del principio di soccombenza, vede l'applicazione secondo cui, poiché è un'attività svolta nell'interesse tendenzialmente comune di tutti i condividenti, le spese vanno poste a carico della massa, nel senso che ogni condividente deve sostenere le spese per la parte di sua competenza, a diritto al rimborso dagli altri condividenti per la quota di loro competenza. Questa affermazione secondo cui operava il principio di soccombenza non mi convince del tutto. In primo luogo, se si ritiene che per esempio che la legittimazione del creditore sia una legittimazione di tipo surrogatorio, a questo punto dovrebbero appiene valere anche nei suoi confronti la regola secondo cui le spese vanno poste a carico della massa. In realtà però questa tesi è superata, si ritiene che il creditore abbia una legittimazione autonoma a proporre il giudizio di scioglimento delle comunioni, ma se vogliamo intravedere una soccombenza io la porrei esclusivamente a carico del condibitore esecutato. Cioè è lui che con l'insorge del debito e l'incapacità di farvi fronte ha determinato la necessità di promuovere quel giudizio di divisione. Non trovo invece giusto che gli altri condividenti coinvolti loro malgrado in un giudizio di scioglimento determinato dall'insolvenza del loro comunista debbano far fronte alle spese sostenute da parte del creditore. E mi fermerei qui. Grazie.